Cosa sono i giochi intelligenti per cani? Cosa sono i giochi intelligenti per cani? Si chiamano anche giochi di attivazione mentale. Sono molto simpatici. La loro funzione è quella di attivare il cane proprio mentalmente. Generalmente sono di varie tipologie, dove si nasconde un bocconcino, un pregnetto, sotto un determinato ostacolo e il cane deve superarlo, tipo magari spingerlo col naso, a riconoscere che in determinati blocchetti con una determinata forma c'è un croccantino. Sono proprio dei giochi di attivazione mentale. Ovviamente vanno fatti con il proprietario, con il padrone. Non si può lasciare a casa da solo il cane e mettere lì il gioco di attivazione mentale per tenerlo occupato. È veramente sbagliato. Però in compagnia del proprietario sono fabolosi perché il cane non è che diventa più intelligente, però sicuramente si divertirà molto e sarà pagato. E saremo pagati anche noi perché sapremo di avere un cane che collabora e interagisce con noi. Quindi andate nei negozi e chiedete giochi di attivazione mentale per cani. Ciao da Daniele, da Valentino e da Olivia. Fai già parte della nostra community? Iscriviti su www.baoboys.tv Potrai fare tutte le domande che vuoi ai nostri esperti. Fai già parte di attivazione mentale per cani.